Ed ora diamo il benvenuto Giulia Gregorig. Ciao a tutti, buonasera. Ciao, buonasera e benvenuta, come va? Tutto bene, grazie. E voi? Tutto bene. Beh, allora, ti va subito di parlarci del tuo nuovissimo singolo in radio? Sì, allora, si chiama Taking Advantage. È un brano, l'ho promosso tramite un video acustico, una versione rirarrangiata rispetto al brano del CD. E niente, una versione appunto fatta a piano e voce. E tutte le tue informazioni, dove acquistare il singolo oltre che l'album? Sono tutte, potete trovare tutto su internet, sulle piattaforme digitali, iTunes, Amazon e anche su Spotify. E oltretutto potete trovare anche le mie informazioni su Facebook, Twitter, Instagram e gli altri canali social. Appunto, ricordiamo che l'album si intitola Making and Unmaking, giusto? Esatto. Ti va di dirci anche, appunto, da dove nasce il titolo, che nasce da un brano? Sì, il titolo nasce dal brano Making and Unmaking, che significa farsi disfarsi. E parla un po' in generale comunque del divenire, del fare le cose, del tempo che passa, delle cose che cambiano. Quindi, secondo me, poteva essere rappresentativo riguardo tutto il percorso del brano, riguardo a come è nato e a come si è sviluppato il tutto. Comunque, ce ne parlerei molto più precisamente in album. Esatto. Molto presto. Tutte le informazioni comunque le potete seguire sui social. E allora, visto che adesso ci ascoltiamo il tuo nuovo singolo, ci fai il lancio radiofonico? Ok. Ecco a voi Taking Advantage di Giulia Gregorici.